Ciao e benvenuto! Oggi ti porto a vedere un terreno edificabile di 1084 metri in località Seran, Akar. Sali a bordo del nostro drone, allaccia le cinture e goditi la vista. Laggiù in fondo c'è Aosta e qui sulla tua destra inizi a vedere il villaggio di Seran. Ecco che piano piano ci avviciniamo alla nostra proprietà in vendita. È un terreno edificabile molto ben definito nei suoi confini, facilmente raggiungibile dalla strada che diventa proprio fondo cieco all'inizio della nostra proprietà. Il terreno è a soli due chilometri dalla strada statale 26. Percorrendo la strada comunale, partendo dalla rotonda di Shethoz, arriviamo dopo due chilometri al villaggio di Seran. Lasciamo la strada comunale e percorriamo la strada privata che ci porterà al nostro terreno. Come vedi non sono strade di forti pendenze e ci portano in tranquillità all'inizio del nostro terreno. Il terreno è già servito da tutti i principali servizi. Acquedotto, fognature, pozzetti dell'energia elettrica e GPL canalizzato. Investimento già sostenuto dal proprietario. Quindi un buon risparmio per te che compri oggi. La posizione totalmente esposta a sud ci regala luce tutto l'anno e un panorama incantevole. Adesso cambiamo un po' di visuali e godiamoci le viste dall'alto. Come vedi è il posto ideale per realizzare la casa indipendente che hai sempre sognato. E grazie alla fantastica esposizione solare realizzare una casa totalmente green. Adesso goditi un po' di panorama e quando sarà finito il video contattami ai numeri qui di seguito. Buona giornata! A presto!